Qualunque cosa la vita abbia in serbo per me, non dimenticherò mai queste parole. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. È il mio talento e la mia maledizione. Chi sono io? Sono Spider-Man. Allora, andiamo da Zia Mei. Ah no, Zia Mei. Sì, vabbè, è comunque il rifugio, dai. Questo qua. Allora, siamo qui. Aspetta. No. Ok. Praticamente non dormo dalla cattura di Fisk. Devo smetterla di maltrattarmi così. E neanche mangi se è per questo. Però, allora, aspetta, ma qua c'erano delle scale, no? Sì, sì, ok. Eh, devo dormire. Ah, qui, ok. Posso vedere qualcosa? Foto di Zio Ben. Vabbè, computer. Niente, va bene. Qua. Ah, Peter Park, da piccolo. Sembravo un idiota. Ok. Beh, attraversiamo tutti quella fase. Qui, un po' di disegni. Sì, adoravo i cavalli. Come tutti i bambini. Bah, non lo so, eh. Zia Mei dovrebbe toglierne qualcuna. È imbarazzante. Va bene. Va bene. Allora, andiamo sul divano. Io non posso accettarli. E invece sì che puoi. Te li restituirò. Appena posso. Chiedimili la prossima volta. Oh, sei proprio il nipote di tuo zio. Devi imparare ad accantonare l'orgoglio dei Parker e accettare di essere umano, come tutti noi. Martin. Scusate l'interruzione. Volevo solo avvisarti che lascerò la città. Dovrei sostituirmi tu. Certo, conta su di me. Quanto tempo starei via? Ancora non lo so. Va tutto bene, signor Lee. Solo impegni personali che avevo pianificato da tempo. Beh, abbi cura di questo posto. Rappresenta di certo la mia parte migliore. Bene. Il dovere mi chiama. Spero che Martin stia bene. Eh, non so. Ha qualcosa che non va da quando abbiamo mostrato la maschera. Ehi, visto il mio articolo? Sicuro? Scommetto che Robbie sarà entusiasta. Sì, è diventato virale. E senti questa. Il sindaco Osborne ha annunciato che oggi consegnerà un encomio all'agente Davis. Wow. Aspetta, il comizio di Osborne è oggi... Ah, ora capisco cosa ha in mente. Sì, è chiaro a tutti. Ma resta un gran momento per l'agente Davis e la sua famiglia. Io seguo l'evento per il giornale. Vieni con me? Sì, volentieri. A dopo. Ok, esci dal rifugio. Ok. È così umiliante ricevere denaro da zia Mei. Dovrei andare in città e cercare di sdebitarmi. Eh, di repente è sempre stato un po' squattrinato. Spadermen e tutto il resto. Ah, ma qua ci abbiamo una missione secondaria sbloccata. Aspetta, proprio qui è. Ma ce ne sono altre perché è un po' che effettivamente non ci faccio caso. Ah, ecco. C'è un'altra qua. Cerebrità virtuale. Aspetta. E basta. Queste due, va bene. Allora io già che sono qua farei questa. Aspetta, vediamo. Di che tratta. Aiutando Howard. Howard, sì. È un periodo turbolento per entrambi. I proprietari del mio stabile l'hanno riclassificato come commerciale. E abbiamo dovuto trasferirci al Fist. Mi spiace. I padroni di casa new yorkesi sono senza cuore. Dopo avermi sbattuto fuori hanno liberato tutti i miei uccelli. E Pidge è l'unico che mi ha ritrovato. Credo di averli cercati dappertutto. Ma con questa gamba malandata. Sai cosa? Io sono sempre in giro. Potrei guardarmi intorno. Che dici? Cattura i piccioni di Howard sparsi in città. È un altro... Aspetta. Ah no no. Ok. Qua ce n'è uno. Qua ce n'è un altro. Ah ma cos'è? Uno per quartiere. Oh no. Qua ce ne sono due. Ma sono... C'è una missione da... Aspetta vediamo. Ok. Quindi è una missione secondaria. Che però è... Forse sono dei collezionabili. Non so. Vabbè ci dà esperienza alla fine. Sì. Allora facciamo una cosa. Io metterei... Qua. Ecco. Indicatore qua. Allora facciamo l'altra. Vediamo se è un'altra più normale. Vediamo se poi qualcuno ci... Ecco ci chiama. Non vedo l'ora che sia finita. Mi sbaventa più un discorso in pubblico che un furgone pieno di demoni armati. Ma non ti chiamo per questo. Che succede? Ho scoperto che i demoni stanno per attaccare un cantiere di fischi in centro. Mia moglie mi ammazza se salto i preparativi della cerimonia per giocare a guardie ladri. Ma ho pensato che mio caro partner volesse saperlo. Ricevuto. Faccio un salto e ti aperto se scopro qualcosa. Ascolta. Un consiglio per parlare in pubblico. Immagina che siano tutti in mutante. Cioè magari non Osborn. Aspetta sai cosa? Lascia perdere. Eh effettivamente immaginando che sono tutti in mutante. Magari è un po' più facile. Ricchiesto intervento immediato per un 10.30 a un veicolo blindato. Reata in corso vicino a Grand Central. Un altro messaggio di Doc. Peter, incrociamo le dita. Oltre a rivendere in moto il progetto, l'idea che sto inseguendo potrebbe espandere le nostre ricerche oltre ogni previsione. Forse l'intervento di Norman è stato un bene. Tutto accade per un motivo. Spero davvero che funzioni. Il lavoro di Doc è troppo importante. Qua è vero che tutto accade per un motivo. Sono d'accordo. Aspettate ho trovato un piccione. Stavo volteggiando. Beh ecco. È bello usare i poteri per una giusta causa. Solitamente sono sbagliate, no? Sempre per una giusta causa. Alla fine. Eccolo. Preso. Ok. Ah, da gettoni ricerca. Ok. Forse ho trovato un cugino di Pidgey. È chiazzato di grigio e mi ha appena lasciato un ricordino. Clarence. È una simpatica canaglia. Dagli un colpetto sulla testa e puntalo verso il fist. Troverà da solo alla strada. D'accordo. Non ci credo. Sei venuto. Eccomi. Cosa hai bisogno? Cereabilità virtuale. Quindi parteciperai alla sfida di Scrooble. Non capisco cosa sia. Non lo sa nessuno. È questo il bello. Scatta una foto al codice sul muro per iniziare. Facile, no? È per aiutare i bisognosi. Beh, in tal caso. Ma è cambiato il... Cioè, dal giorno è passato la notte. Però vediamo. Il codice QR praticamente. Fatto. Eh. Oh, Spider-Man! Hai accettato la sfida! Benvenuto nel mio streaming! Oltretutto, ora che ci sei tu, le view sono schizzate alle stelle! Ti spiego. Il codice a barre che hai fotografato ti fornirà le coordinate GPS di un altro codice da rintracciare in zona! Eh, qui si va per le lunghe. Scusami, la gente ha bisogno di me. Mm, buffo che tu lo dica. Perché qui aiutiamo le persone in pericolo. Una in particolare. L'ultimo codice a barre che indicherà la posizione di una... Tiene di morte? Vittima di sequestro! Cosa? Già! Questo è creare suspense! Oh, è telegenica, vero? Intrappolata! Indifesa! Morirò di stenti! Suffocata! Il tempo scorre! Internet ti guarda! Tadà! Una svolta inaspettata! Questa è matta! Eh? Aspetta. Ecco il prossimo codice a barre! Perché non me lo... Questo non sarà semplice! Aspetta. Ah, ok! Aspetta, aspetta! Ho visto qualcosa sul palo. Però c'è traffico. Aspetta. C'è sul semaforo qui. Ah, ho visto uno dei segni. Ok, boh. Aspetta, farò vedere. Un po' di qua. No, forse devo vederlo. Da che angolazione devo vederlo? Un attimo. Forse da qui. Non lo so. Aspetta. Forse sono troppo lontano. Vediamo. Ah, da qui! Ok. Migliora angolazione. Eh, vizio. Aspetta, vediamo sul muro. Se... Un attimo. Ok. Allora, ma vicino. Proviamo così. Così forse. No. Oh, madonna. Se trovare l'angolazione giusta. Possibile. Oh, madonna. Lo stai facendo? Ecco. Vai su, va. No, così in alto. Ok, fermo. Allora. Pure a me sembra... Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok. Oh, guarda! Un saluto ai miei fan! Alcuni si sono uniti allo streaming. Madonna. Ulla, madonna. Sono tutti fuori di testa. Mentre ci godiamo l'azione, ne ho posito per leggere alcuni messaggi dal pubblico. C'è che vorrebbe, dice... Ti amo, Scrooble. I tuoi streaming mi hanno tenuto scompagnia in galera. Oh, fancy Dan, dice... Ho lollato duro quando ho controllato J. Jonah Jameson con la torta. Madonna. Anch'io, President. Anch'io. Sì. Sì. Madonna. Eh, lo sapevo. Mizzegas e Mena di brutto, quello lì grosso. Volevo togliergli l'arma, ma quello là, ma... Quando sto fermo, vengo sempre preso. Porca vacca. Ecco il prossimo codice a fare. Allora, stavo dicendo... Questo non sarà semplice. Aspetta, aspetta, da... Da lì l'avevo fotografato. Ok. Dai, madonna, aspetta. Così. Non va bene. Così. Non va bene. Ho trovato la stessa angolazione di prima. L'avevo fatto da qua, credo, eh. Eh, ok. Fatto. Oh. Allora, adesso. Aspetta che questi sparano su... No, non sparano subito. Vabbè, sparano in ogni caso. Ok. Aspetta. Sono tutti fuori di testa. Ok. Aspetta, facciamo così. Oh. Oh. Ho l'ho lato duro quando hai trollato Jason a Jameson con la torta. Anch'io, fancy Dan. Anch'io. Slingaz è un ascoltatore di tele che è finito a Riker per colpa di Spidey. Dice, voglio vederti umiliare lo Spider Freak. Sarai accontentato, Slingaz? Vabbè, prossimo... Mi spiace, ma dovrete tornare alla sfida della cannella. Sono desolata, Spidey. Non è colpa mia se gli ascoltatori la prendono sul personale. Loro si appassionano. Hashtag stop. Hai davvero detto hashtag a voce alta? È un crimine quasi peggiore del rapimento. Quel codice dovrà daverti inviato nei coordinate della prossima posizione. Poi in fretta. La nostra amica è sola sull'Italia. È tanto triste. Ma poi sarà vero o non ha preso in giro, ma non so, eh. Dov'è? Ah, l'area. Poi in questo caso... Aspetta, devo vedere... Là. Dove sarà questo codice? Ecco l'altro codice. Diviso tra due edifici. Devo essere preciso. E dov'è? Aspetta, aspetta. Posso tornare. Ah, eccolo! Madonna. Sì, lo so che posso fotografare anche agganciato al muro. Aspetta. No. Volevo non fare questo, ma vabbè. Ok, anche così va bene. Eccolo lì. Tra due edifici, ha detto. Ah, sì. Sì, aspetta. Ehm. Madonna. Come l'ha messo? Un pezzo va di là. Eh, beh, di certo qui non penso. No, non penso proprio. Eh... No, non c'è niente di... Beh, ci sono quell'edificio lì, aspetta. Ah, aggrappati. Ok, fermo così. Vediamo. Vediamo se da qua... Va. Giusto. Vai. In via del tutto ufficiosa. Ho sentito che alcuni miei fan hanno deciso di portarti dei pacchetti regalo. Ti stanno dicendo che sei una boiba. Meglio se le raccogli in fretta o qualcuno si farà male. Eh, dov'è? Ok. Dov'è? Dai! Ok. Dai, andiamo, andiamo. Non stiamo a guardare. Ok. L'indirizzo è qui vicino. Devo correre! Eccolo qua. Dov'è, dov'è essere proprio messo male, eh? Fa una cosa del genere. Ok. Ci siamo. Voilà. Mi senti? Non è un mani... Aspetta, sfondo la porta! Oh mio Dio, Spider-Man! Non so come ringraziarti. Per i milioni di click che ho ricevuto! No! Scrooble! Già! Dovresti vedere l'espressione di quegli strani fori che hai al posto degli occhi. Oh, guarda! Altri follower. Scrooble! Mettici nei feed! TLDR! Non approvo questa condotta! Opla! Vittiglie di smettere! Aspetta. Ok. E direi che... No, veramente covolo sto potere, eh? Va bene, elimina un po'... Subito. Ok. Ragno maledetto! Ok. Aspetta, eh. Schiviamo un po'. Eh, cavolo. Oh, cavolo che ho preso al volo! Ma per... Ah, ancora! Eh, basta! Oh! Allora, dobbiamo usare un po'. Il drone. Vai, tre droni, via! Mettaccio. Ok, poi... Ok, poi... Ehm... Ah, la bomba, sì. Do. Vabbè, non è che ha avuto molto effetto, effettivamente. Questo qua è grosso il problema, porca, vabbè. Ti spiaccerò! Questo qua non gli puoi... Attenzione. Ma guarda! Uo, al pelo! Allora, occupiamoci di... Un attimo, un attimo, un attimo. Aspetta, ecco. Ok, voglio un po' di concentrazione. Ok, così mi culo. Mi culo un po'. No! Ah, no, no, quando devo prendere qualcosa... Questi iniziano subito a sparare. Ok. No, vai via! No! E applaude! Ok. Oh, è andato! Oh, la polizia! Non male! Madonna, che fatica! LOL! Personalmente non ho fatto nulla! Hanno agito i miei fan! Non ha tutti i torti, sarà difficile incontrarlo. Nonostante usi le ragnatele, inizio a odiare la rete. Ok, inizia. Però mi è piaciuta, dai. Particolare. Com'è? Missione. Adesso tornerà giorno? Immagino. Infatti, ecco. È tornato giorno. Va bene. Ci sono altre robe da fare? Altre missioni? Per caso? Vediamo. Non mi sembra. A parte quelli... Ok, sì. Va bene. Allora... Andiamo verso la missione principale. Ok, eccoci qua. Vabbè. Ok. Perfetto. Questo intervento immediato per un 10-30 a un veicolo blindato. Consolidated shipping. Pari. Jeff, ci sono. Cosa vedi? Trovateli. Devono morire. A quanto pare i demoni hanno invaso il territorio di Fisk. Ci pensi tu? Tranquillo. Allora, allora. Vediamo. Cerchiamo di fare la stealth. Sì, quello sicuramente si può prendere. Esatto, ma volevo appenderlo. A qualche parte. Aspetta, ma se io... No, dov'è che è? È lì. Aspetta, com'è che era? Così sì, posso prenderlo, ma per... Ecco, così. Ah, no, non mi fa... Purtroppo deve essere sempre una sporgenza per... Agganciarli da qualche parte, cioè tipo lì. Esatto, tipo lì. Ok. Cioè, non è che gli appende al muro in alto. Poi... No, ho sbagliato totalmente il bersaglio. Opla. Oh, me ne sono andato forse in tempo, eh. Ho sbagliato proprio il bersaglio e la sporgenza. Aspetta un attimo. Ecco, torno qua. Ok. Dai, nessuno se ne è accorto di nulla. È riuscito a fuggire... In fretta. Ecco. Opla. Ok. Non capisco se è giapponese o... Un'altra lingua. Aspetta, eh. Perché quello... Allerta. Ah, quello segnala anche quello lì. Questo no, però. Ok. Io farei così. Ok. È rimasto solo lui? Sembrerebbe di sì. Ah, porca vacca. Vabbè, intanto, se è rimasto solo lui... O le... Ecco. Perfetto. Ah, di là. Aspetta. Ok. Avete ciò che volevate. Vi prego, lasciateci andare. Il territorio di Fischio è nostro ora. Io non credo. Ah, interveniamo così. L'ho appeso. Sì, l'ho appeso. Vai. Opla. E senza toccare terra. Sconosciuto. Che bella tuta. Ti sfina. Fatti gli affari tuoi. Aspetta, i demoni. Chi è il loro capo? Salva i miei uomini e forse te lo dirò. Quello? Devo salvare cattivi da altri cattivi. La vita è piena di sorprese. Uomini Fischia al Vati. Dai. Ok. Non posso appenderlo questo? Sì, ok. Posso spostarmi un pelino. Ok, poi... Ah, ma... Mi hanno visto allora. Vabbè. Sembrava di no. Vabbè. Bene. Ok. Ok. Ah, uno di sé è salvato. C'è uno col bazzucca. Sì, ma anche prima. Vabbè, tanto vale. Ok. Direi che è il momento. Non ho altra scelta! Opla. Ok, sono un esibizionista! Estremamente... No, non è andato giù. Di poco. Aia. Ok. Ah, questa... La polizia cos'è? Beh. Ho beccato l'altro. Qualcun altro? Sì. Sì, è ancora... Ok, no. Ok, è posto, è posto. Ah, quello era l'uomo di Fisk. In alto sono. Meglio passare da fuori per cercare gli uomini di Fisk. Sì. Aspetta. Qui? No. Lo va giù. No. No. Ah, quello è andato. Toh, beccati questo. E poi... È andato? No. Ecco. Uno più grosso, eh. Che pareva. Ehi, bestione! Mmm. Per sconfiggere un colosso con un colpo... Eh, non ho letto. Vabbè, comunque io lo devo schivare. Ah, ecco. Magari lo devo colpire alle spalle. Andiamo? Cos'è? Olè! Ah, mizze che è andato via così? Ma che armi sono? Cioè, armi di energia... Boh, scura. Beh, al pelo. Aspetta, ma... Oh, volevo vedere se... Ne accumulavo due di barre... Se... Cambiava qualcosa. Aspetta, dov'è che devo andare in alto? Devo trovare i sopravvissuti. No, c'è ancora... C'è ancora qualcuno? Aspetta, scusate. Dov'è? E allora, vado lì. Ora mi insegna tre in alto... Ah, uno mi va... Ah, giù! Giù? Aspetta. Dov'è? Mi insegna uno giù... No, così mi sto allontanando. Dov'è? No, adesso segna su, ma no, mi prendi in giro. Qui? Aspetta. Dai, vai lì. Ok. Ehm... Vai, sentite. Ecco, cosa facciamo? Andiamo prima su, va? E poi andiamo giù, va? No, dai, di poco. L'ho agganciato? Sì, vai. Ah, questo l'ho salvato. Ok, perfetto. Ah, dall'altro là? Di là, di là, eh. Aspetta. Eh, da qui. Andiamo. Ecco, sì. Oh. Oh, non volevo farla sta roba, ma... Va bene, anche così. Pericolo, pericolo. Pericolo. Vabbè, senti, prima che muoia. Andato giù. Troppo no, agga. Adesso va giù. Perfetto. Tu. Ok. E vai giù anche te. Ok. Dove mancarne uno. Esatto. Quello là in basso che non capivo dov'era. No, adesso è lì. Aspetta. Segna qua. Devo capire come arrivarci. Ah, forse da qui. Esatto, ok. No. Quindi è proprio lì che sono andato a schivare. Ah, questo c'è lo scudo, eh. Allora, facciamo così. Esattamente, li metto qua. E voilà. Ahia. Allora. Ok. Cos'è, cos'è, cos'è? No. Schiare, ma... Ok. Ok. Perfetto. Cos'è? Ah, ok. L'uomo di Fisk. Fisca. Fisca. I tuoi uomini sono salvi. È il tuo turno. Chi comanda i demoni? Forse è già lì. O forse no. Controlla sul tetto. Mi mancavano le frasi criptiche di Fisk. Su te, vabbè. Aspettala. Un attimo. Su. Ok. E direi lì. Se lo uominiamo, magari. Ci rivediamo. Ci rivediamo. Ok. Porca vacca. Che botta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Madonna. Ok. Bello, eh. Madonna. Non me l'aspettavo. Vabbè, dobbiamo inseguirlo. Sì. Sì. Sfiscio davvero. Sì. Ci segnalano un elicottero con una palla da demolizione. Sì. Quella faccenda dei demoni è complicata. Tranquilla, Iuri. Tidati di me. Madonna. Distrugge tutto. Devo raggiungerlo, ma... Sì. Eh. Madonna. Dai che io sono vicino, ma... Aspetta. Madonna. Fatto a prendere. Sparito. Ah, no. Ok. Eccolo lì. Quell'elicottero sta distruggendo la città. Lo sa. Devi abbatterlo subito. Lo so. Ci trovo. Non potresti accelerare i tempi. Ci sto provando, Iuri. Ci sentiamo dopo. Se magari non mi telefoni... Madonna. Olè. schivato. Ok. Non appare però... Eh. Devo avvicinarmi... Un po'. Bene, bene. Però. Minzga. È la mia occasione. Ok. Dai. No. C'ero. C'ero. Ok. Ok. Vai, vai. Madonna. No. Olè. È il volo per Newark. Boh? Ah. Mi spiace, signore. Ma deve accostare l'elicottero. È questo il tuo piano? Rimpiazzare Fisk? Fisk? No. Inizio. Un motore andato. Ora è il secondo. Guarda. Sto facendo le cose giuste completamente a gaso. Schivato. Eh. No. Eh. Da. Ok. Vai, 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 vai. Ok. Ok. Ce l'ho fatta, eh. Olè. Sì. Madonna. Aspetta. Velo. Ok. Vai, 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 vai. Come mi sono fallita. Ho premuto, eh. Aspetta. Ho premuto le due R2. Forse di più. Più, più. Con più fuga. Eh, li proviamo, eh. Li proviamo. Allora, qui. Ok. Poi c'è la coda, che va via. Ok. Così. Ok. E poi, vabbè, premò più forte, allora. Premo, premo, premo. Ok. Eh, devo premere un po' di più. Eh, vabbè. Mamma mia. Hm. Questa maschere sono stupende. Dove le prendete? Oh, grazie. Le trovo su internet. Tch. Oh. Ehi, Yuri. Ho preso i cattivoni. Ma... Ma cosa? Ti conviene portare una scala. Ehi, nice. Ehi, fanboy. Accidenti, è tardi. Vieni? No, vado al municipio per la cerimonia di papà. Ah, giusto. Fagli i miei complimenti. Ah, il figlio, forse. Sì. Mamma mia, è bella. Spettacolare. con la missione lì. MJ, la cerimonia è già iniziata. Stanno allestendo il palco. Tu dove sei? Contrattempo al lavoro. Arrivo. Hm. E che contrattempo? E che contrattempo? A presto. Ancuno. A presto. A presto. Cosa.